in generale, perché sono strano secondo voi? No, no. Il mio ego è smisurato? Un po', come tutti. Alzi la mano che è l'ego smisurato. Magari qualcuno non ha alzato la mano per timidezza. Alzi la mano i timidi. Chi non ha alzato la mano non l'ha fatto per timidezza. Ci stiamo muovendo in un caccaio psichico questa sera. Comunque, perché non ho trovato degli applausi? Non certo per vanità. E' una stranezza che deriva dal fatto che io ho l'ascendente zodiacale nel segno della riete. Ok, c'è qualcuno che ha l'ascendente nel segno zodiacale della riete? La gente non sa il proprio ascendente, la gente sa il proprio segno. Ok? E il mio segno è il sagittario. Il segno è la posizione del sole nel momento in cui nasci. Quando sono nato io, il sagittario stava vicino al sole. Vedo che questa cosa mi rienti di interesse. Ci sono altri sagittari questa sera? Ho chiesto di essere sagittari? Allora vado più sul tecnico, che qua stasera siamo fra tecnici. Chi è nato fra il 21 novembre e il 21 dicembre? Sei un sagittario. I sagittari presenti possono portare testimonianza di quello che era il nostro oroscopo alla fine dell'anno scorso e diceva Sagittario, il 2017 sarà il tuo anno. A partire da dicembre. 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 A partire da dicembre.